ciao agli amici del marano ragazzi spot festival grazie per avermi invitato nella vostra casa anch'io dalla mia ho messo una barca una vela per stare più vicino a voi sono giulio guerrieri e sono l'autore e il regista del cortometraggio la cartolina la cartolina parla di una storia la cartolina raffigura un campo di papaveri il papavero è un fiore combattivo nasce in ogni luogo a uno spirito libero questa cartolina viene recapitata a un ragazzo di 18 anni che lavora in una ciclo officina lui è stupito di ricevere una cartolina non si usa più mandare in giro le cartoline al giorno d'oggi ma quello che lo incuriosisce di più è la data del timbro postale 1978 questo scatena in lui il desiderio di informarsi di documentarsi quindi sulla rete prende tutte le informazioni su quelli che sono stati gli accadimenti socio politico culturali del 1978 e da lì in lui si scatena il desiderio di un impegno sempre maggiore di un impegno per una lotta continua all'illegalità per tenere sempre alto il valore della memoria e del ricordo specialmente come oggi in questa giornata del 9 maggio in cui teniamo alto il valore dell'impegno e della memoria per un grande personaggio buona visione con la cartolina ciao mara ciao buongiorno ragazzo buongiorno c'è posta questo questa cartolina e basta ma non è per me e poi non lavora più qui no no l'indirizzo è questo è giusto poi guarda è anche vecchia c'è il timbro del 78 allora un pezzo antiquariato io me la terrei ai giorni d'oggi che la riceve più una cartolina va bene grazie mille buona giornata salve ciao 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 buongiorno un attimo arrivo eh vedi ormai non li fa più nessuno questi lavori fatti a mano io ho ereditato il mestiere da mio padre e lui da mio nonno siamo qui da generazioni ecco qua ma queste sono le copie delle cartoline che mi hai ordinato grazie mille mi raccomando trattamele bene va bene arrivederci arrivederci basta dai scusa ora spengo ho quasi finito ciao 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 tutto bene tutto bene eh si si vuoi bene bene se ci hanno starci nella scuola no no tranquillo io ho già andato ora tocca a te eh Luca ehi Greta cosa ci fai qui? devo dirci una cosa è un po' di verbo scusa non riesco a aiutarti sono indietro con lo studio e non riesco scusa grazie 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 ok due minuti ma cosa ci fai qui? non dovevi essere in giro a consegnare le cartoline? ah volevo fare una partitella partitella? cosa hai paura? guarda che io le mie le ho già consegnate mi hai tenuto sveglio tutta la notte se io non sei il fratello maggiore ok non abbiamo molte parole da dirvi noi questa sera lasceremo parlare alla nostra musica ma forse una cosa volevamo dirvela in questa ultima notte del 1978 si una cosa volevamo dire noi siamo qui e stiamo scrivendo e continuiamo a scrivervi e a spedirvi le cartoline quelle con il messaggio di peppino impastato così come abbiamo iniziato dopo quella notte del 9 maggio del 1978 si e continueremo ancora e ancora e ancora a scrivervi queste cartoline certo perché il messaggio di peppino impastato non si è spento in quella notte del 9 maggio ma è ancora vivo noi non sappiamo come sarà tra 20-40 anni ma una cosa vi vogliamo dire noi ci auguriamo e speriamo che il messaggio di peppino impastato il suo sacrificio che non sia stato vano io voglio scrivere che la mafia è una manzana di merda noi ci dobbiamo ribellare prima che sia troppo tardi prima che non ci accorgiamo più di niente ecco ti stavo cercando dove eri finito? comunque ci ho pensato non potevo lasciarti da solo in certe situazioni è meglio essere in tanti ce l'hai qualche cartolina da consegnare? si ce l'ho non ci ho pensato non ci ha pesato ci hanno un'altra cosa questo è il tuo piangftolo è un'altra cosa che fa così Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.